Il ricordo di Te, Signore, è la nostra gioia. Il ricordo di Te, Signore, è la nostra gioia. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Anche oggi il Signore parla ai nostri cuori. Apriamoci a Lui e lasciamo che entri la Sua parola dal Vangelo secondo Luca, capitolo 18, versetti 9-14. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salierano al Tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé. Oh Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. E' il Vangelo di Luca oggi, in questa parabola che Gesù dice che il Signore si manifesta a noi. Il Signore ci sta facendo fare un cammino in questo tempo. E' un cammino in cui ci richiama di mettere il nostro pensiero in Lui, fissare il nostro sguardo su di Lui. E oggi viene a noi con questa parabola il Signore Gesù. E' una parabola davvero molto specifica, perché parla di due persone che in qualche modo racchiudono due generi, due tipi di personalità. Quindi una personalità che crede, è di fede, compie delle opere sia di generosità, di carità, ma al tempo stesso in questa fede c'è anche un grande orgoglio. E c'è anche un grande giudizio e disprezzo di chi non prega, non compie opere di misericordia e non compie, ecco, certe pratiche. Dall'altro aspetto c'è questo pubblicano che, potremmo dire un pagano, non vive nella legge di Dio, né rispetto delle prescrizioni, quindi in un culto, in una generosità, in certe pratiche e opere della fede, ma quando sale al tempio, va da Dio riconoscendo la propria vita, quello che è, le proprie mancanze e dicendo Abbi pietà di me, oh Dio, di quello che sono. Gesù infine dice che questo pubblicano è tornato a casa giustificato, quindi perdonato, mentre l'altro no. Allora questa parabola Gesù la dice anche oggi a noi. In qualche modo vuole saggiare il nostro cuore, vuole metterci alla prova, affinché ciascuno di noi possa esaminare come è il nostro cammino di fede, un cammino alla luce di Dio, un cammino con la presenza degli altri. L'analisi che dobbiamo fare, carissimi amici, è quella di fronte al Vangelo, di fronte a Dio, come sta andando la mia vita. Se io innanzitutto ho questa coscienza dei miei limiti, delle mie mancanze, ho questa coscienza di essere terra, perché quando Gesù ha detto chiunque si esalta sarà umiliato, ma chi si umilia sarà esaltato, humus è terra. Quindi riconoscere che senza Dio siamo terra. Questa è la radice di una vita giusta. La radice, l'inizio di una vita di fede, di una vita autentica, quando io riconosco che sono pieno di limiti. Io riconosco, quando mi metto di fronte a Dio, io guardo il sole quando penso a Dio, di essere una creatura, creata bene, ma con tanti limiti. E questi limiti si vedono nel mio carattere, nel mio modo di pensare, nel mio agire, nel mio parlare. Ecco, stando di fronte a Dio, mi rendo conto di ciò che sono. E a Dio dico, Signore, perdonami, accoglimi, io sono questa terra. Ecco, quando Gesù dice, chi si umilia sarà esaltato. Riconosciamo oggi di essere terra, che Dio può modellare però. Non è una terra maledetta, non è una terra da condannare, siamo terra da modellare. Quando viviamo senza Dio, pensiamo che da soli possiamo automodellarci, ma nel cammino di fede noi sappiamo che in realtà è soltanto Dio che può modellare bene la nostra vita. Quando noi, in tutto ciò che abbiamo ricevuto e che viviamo, che siamo, ci offriamo e le diciamo, Dio, eccomi, abbi pietà di me, guarda, le mie povertà, le mie indigenze, le mie incapacità. Ecco che il nostro cuore, carissimi amici, si trasforma. Viene a contatto con la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Viene a contatto con colui che ci fa una meraviglia. E ricordate il Salmo che dice, È Dio che fa di ciascuno di noi una meraviglia quando noi ci presentiamo a Lui come terra da essere modellata, plasmata. Ecco che, giungiamo alla parabola, colui che si riconosce humus, terra, di fronte a Dio. Ha un cuore puro, ha un cuore libero, ha una bocca che è pura, che è libera. Come si riconosce se una persona sta camminando in Dio come nell'umiltà, quando dalla sua bocca non escono giudizi, temerari, accuse. E purtroppo noi viviamo oggi in un mondo, in una società, anche quella digitale, social, dove ciascuno può dire quello che pensa, anzi deve dire quello che pensa. E più le cose che, diciamo, rispecchiano un giudizio verso gli altri, contro gli altri, più si accende un commento, più si accende una discussione, un forum. Insomma, la vita si accende. Ma nella fede, carissimi amici, in questa parabola non è così. Non è che quando ci alziamo Dio ci dice adesso di quello che pensi, dai. Cosa pensi del tuo vicino? Cosa pensi della suocera? Cosa pensi di chi non crede in Dio? Cosa pensi di chi crede troppo? Cosa pensi di chi va sempre in chiesa? Cosa pensi di chi... Beh, è tutto un vociferare, un giudicare, 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 condanni, condanni, giudichi, dislike, dislike, non ti piace, non mi piace, non mi piace. Chi si umilia sarà esaltato. Oggi il Signore ci sta chiedendo di vivere in umiltà. Significa, Signore, io so chi sono, come sono, senza di te. Non valgo nulla. Non posso operare niente di buono senza il tuo Spirito Santo. Per questo, con questa coscienza, con questa esperienza che ho bisogno di Dio, fratelli e sorelle, la mia bocca non giudicherà. La mia bocca non accuserà. La mia mano non punterà il dito contro gli altri. Pur conoscendo, pur vedendo la terra degli altri, le mancanze degli altri, gli errori degli altri. Dio non l'ha mai condannato. Dio non l'ha mai giudicato. Gesù non si è mai messo a puntare il dito. Gesù ha dimostrato, anzi, che senza di Lui, ha detto, non possiamo fare nulla. E allora oggi, carissimi amici, chiediamo, Signore, il dono di una conversione. Oserei dire, perché si parla molto della bocca, la conversione delle labbra, la conversione delle mie parole, delle tue parole. Chiediamo a Dio il dono di smettere di parlare male degli altri. Smettere di giudicare gli altri. Smettere di accusare il peccato degli altri. Quando forse noi facciamo cose più brutte, ma magari sono nascoste. Sono dentro qua, dentro al cuore, qui nella mente. Penso a cose bruttissime, orrende, ma fuori sembro bello. Mi faccio apparire, mi faccio vedere come una bella persona. Chiediamo a Dio la conversione del cuore. Ma soprattutto, che questa bocca possa parlare benedicendo Dio e non giudicando gli altri. E così anche nei social, fratelli e sorelle. Non scagliamoci contro tutti coloro che, secondo noi, sono ingiusti, sono cattivi. Il Signore ci ha dato l'uno della preghiera. Preghiamo per gli altri. Benediciamo gli altri, ha detto Gesù. Benedici i tuoi nemici. Non maledirle. Ma soprattutto chiediamo il dono della umiltà. E allora ti invito, carissimo, prega insieme a me oggi e dirgli, Signore Gesù, io oggi voglio riconoscere di essere terra. Riconosco che senza di te la mia vita è sbagliata. Possa risuonare oggi la tua misericordia dentro di me. Possa risuonare nel mio cuore la grandezza del tuo amore, la grandezza della tua grazia. Riconosco, Signore. Riconosco, Signore, di essere terra, di essere pieno di limiti, di mancanze. Signore, concedimi di fissare il mio sguardo su di te. E di non guardare sempre o continuamente agli errori degli altri, anche se sono chiari. Donami una contrizione. Donami una capacità di vivere nell'umiltà. come tu sei stato umile. Tu che eri davvero il giusto, tu che eri davvero il santo, hai lasciato che altri pensassero di te, che sei il peggiore, fino ad appenderti sulla croce. Signore, grazie per il tuo amore, perché sei morto per i miei peccati, per le mie mancanze. Rendimi come te, bello come te, puro come te, e che la mia vita sia davvero in te, una fonte di luce per tutti gli altri che mi amano e che mi circondano. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, quindi amiamo Dio. Mettiamoci alla sua presenza e chiediamo che faccia della nostra terra, della nostra umiltà, che faccia lo splendore della sua gloria e risurrezione. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Raudo te, Signore, esalto il tuo nome, innalzo la mia voce con tutto il mio cuore, tu l'alfa e l'omega, principio e la fine, il primo e l'ultimo, il mio salvatore. Adoro te, che sei il re dei re, adoro te, il principe di pace, Adoro te, adoro te, con tutta la mia vita, con tutte le mie forze, con tutto il mio cuore, adoro te.